Buonasera e benvenuti a Dalla vostra parte verso il voto, questa sera salutiamo Emma Bonino che si candida per la lista più Europa, buonasera, più Europa ne parliamo tanto qui, si parla spesso, mi scusi la sento malissimo, noi siamo sempre sfortunati qui, abbiamo tanti tecnici ma evidentemente i collegamenti sono un po', ma intanto facciamo vedere un servizio e così sistemiamo anche questo, così ci sentirà benissimo, tra poco, mi scusi, prego Loro protestano, eppure sostiene Emma Bonino, la paura per lo straniero non c'entra niente con l'immigrazione Mille persone che bivaccano dalla mattina alla sera senza una fissa, niente, qui il quartiere ce lo invadono I cittadini sono esasperati Questa è la tua baracca Però, sostiene Bonino, il problema non sono i centri di accoglienza al collasso, non sono le periferie fuori controllo, anzi l'axenofobia è più forte dove non ci sono stranieri Quattro per ogni paese non farebbero del bene a noi e anche a loro, ma a tutta questa gente Possono mettere 1500 persone su un paese di 190 Dicono che sono troppi? Eppure sostiene Bonino, l'Italia dovrebbe regolarezzare almeno 500.000 clandestini e farne arrivare 160.000 all'anno Perché, proprio come in Germania, darebbero un importante contributo al nostro paese L'accoglienza dei migranti economici, soprattutto per come viene fatta adesso, è uno scandalo Perché sappiamo in che condizioni è l'economia italiana Gli immigrati ci servono, sostiene Bonino, perché producono l'8% del PIL, fanno i mestieri che noi non vogliamo fare E se non ci fossero, dovremmo andare a prenderceli Bonino, allora dovremmo avere più immigrati, praticamente Dobbiamo aprire, spancare le porte, farne arrivare di più perché servono all'economia E forse anche ad imparare ad accoglierli, cioè a non essere razzisti? Perché gli italiani sono razzisti se non ci sono immigrati? No, no, non mi faccia dire caricature che non ho mai detto Quello che però ripeto è che in Italia ci sono 6 milioni di immigrati regolarizzati Che producono l'8% del PIL Che hanno anche inventato delle imprese in questo periodo di crisi in cui lavorano gli italiani Che sono contributori netti dell'Inps Quello che invece crea tutta questa conclusione sono i 500 mila, diciamo, irregolari Nel nostro paese che o lavorano in nero oppure non possono neanche lavorare stante la legge E che io credo sarebbe più utile per la sicurezza, per la legalità Mi scusi, mi scusi, mi scusi Cercare di legalizzare D'altra parte lo aveva ben capito Berlusconi e il governo Berlusconi Perché subito dopo la legge Borsifini e fece benissimo Berlusconi promosse le due più grandi sanatorie di legalizzazione di un totale di 900 mila persone L'ha detto a Renzi che dice che Berlusconi è fatto bene? No, perché magari non... No, lo dico io No, no, dico, ma l'ha detto anche a Renzi perché forse non la pensa così Renzi Non lo so, quello che pensa Renzi non è esattamente la priorità delle mie preoccupazioni Dico che quelle due sanatorie che legalizzarono 900 mila straniere in Italia Berlusconi fece benissimo Perché la legalità vuol dire anche responsabilità e l'integrazione aiuta la sicurezza Quindi bisogna fare un'altra sanatoria? No, come lei sa e avrà avuto il tempo, credo, assolutamente di leggere Quello che noi proponiamo con la proposta di iniziativa popolare ero straniero E' un modo di entrare legale in Italia e che stabilisca diritti e doveri di tutti per l'integrazione Ma quelli che ci sono già? E quelli che ci sono già? Quelli che ci sono già bisogna... Che facciamo? No, guardi, la bufala che cacciamo 600 mila persone è veramente dare fuori di testa O un dato di ignoranza Perché come li cacciamo? Li paracadutiamo dove? Quindi non è vero che ci sono le espulsioni, li vengono rimandati? Cioè li si tiene qui e li si terrà qui? No, scusi, il problema è che sui trattati di espulsione, noi in Italia ne abbiamo solo quattro E abbiamo solo Tunisia, Marocco, Nigeria, Egitto e gli altri li paracadutiamo dove? Quindi bisognerà regolarizzarli, scusi? C'è una sanatoria, poi non la chiamiamo sanatoria, la chiamiamo regolarizzazione, va bene E le dico anche a Dottor Del Pietro, scusi, che il sistema SPRAR, quello di mettere gruppi piccoli nelle città Cioè in tutti i comuni italiani? Eh, due su mille abitanti funziona benissimo Sa perché non funziona? Perché solo mille sindaci hanno aderito a questo sistema E quindi questi mille sindaci sono caricati di tutto quello che gli altri 7 mila dovrebbero assumersi Vi presento i nostri ospiti, aspetti, aspetti Bonino che presento perché abbiamo due colleghi in studio con noi C'è Carmelo Abbate, giornalista di Panorama e saluto anche Veronica Gentili, giornalista del Fatto Quotidiano Ma prima voglio farle vedere una piccola clip, così poi la commentiamo insieme Grazie Senza immigrate nessuno raccoglierebbe più i pomodori Queste sono le parole di quella signora, quella palandina degli immigrati Con lei che vorrebbe concedere il permesso di soggiorno a 500.000 immigrati clandestini Facendoli arrivare non facciamo atto che illudelli Un tempo era il cotone, oggi si parla di pomodori Basterebbe la metà di quanto speso per immigrazione illegale Per una politica familiare giusta, credibile e duratura Che consenterebbe alle famiglie italiane di poter permettere più fili Ecco, questo è il responsabile sicurezza della Lega, che ne pensa Bonino? Penso due cose, la prima è che il declino demografico del nostro paese Ha ragioni antiche e ragioni evidenti E se anche volessimo cambiare passo ci mettiamo una generazione o due di politiche magari diverse Ma la seconda cosa voglio dire a quel signore Che questi 500.000 irregolari che già abbiamo, che sono venuti per varie strade Io penso che anche per la sicurezza, per la legalità Sia meglio legalizzarli nel nostro paese Perché non so dove li volete mandare In quali paesi Veda, dottor Belpietro, come noi facciamo gli accordi E bisogna che per fare gli accordi bisogna essere in due Quindi lei dice una volta che sono arrivati non si possono più Ne abbiamo solo quattro Ho capito Allora, no, io ieri mi interrogavo, ci interrogavamo, abbiamo avuto D'Alema Su dove fossero finiti i voti che il PD sta perdendo nei sondaggi Sappiamo che le rilevazioni lo danno molto basso E anche Liberi Uguali non è cresciuto Oggi cominciavo a rispondermi a questa domanda Perché pare che lei stia crescendo molto nei consensi E quello che è abbastanza bizzarro È il fatto che è stata l'unica in qualche modo Rispetto al tema dell'immigrazione A non avere paura di essere così netta e categorica Come è anche adesso Cioè nel dire realmente quali sono le ricette Quindi lei ritiene che è meglio dire le cose come stanno Dire va superata la bossi fini Dire vanno in qualche modo sanate le posizioni di coloro che già sono qui Cioè è meglio agire la sprar, conservarla Piuttosto che raccontare tutto quello che è stato raccontato finora? È esattamente quello che provo a fare Perché io non credo che gli italiani sono razzisti Esistono dei gruppi razzisti Forza nuova non è che me la invento io È lì Ma quello che gli italiani sanno perfettamente Le 800.000 famiglie italiane E le loro badanti E non ce n'è quasi nessuna italiana Perché ci sono lavori Che gli italiani non vogliono fare più Come umano che sia Quelli però sono regolari Io sono figlia di contadini Poveri diciamo alla fine della seconda guerra mondiale E il mio papà e la mia mamma volevano solo che noi figli studiassimo Per non fare contadini poveri Credo che oggi esistano interi settori dell'economia italiana E le costruzioni Non c'è un manovale italiano Sono semmai cossovari Oppure in agricoltura o in floricoltura Quindi la scala sociale è che la prima generazione è sempre difficile È chiaro Bonino lo sa che Renzi ha detto che non condivide la sua linea L'ha detto ieri a 8 e mezzo Dice che sul tema dell'immigrazione non condivide la sua linea Preferisce quella di Minniti Eh siamo in due Neanch'io condivido la sua Quindi Ne io L'accorpamento previsto da questa Incredibile legge elettorale Che non so chi se l'ha inventata Lei non si sarebbe mai accorpata con Renzi Se non ci fosse stata questa legge elettorale No il problema è diverso dottor De Pietro Io credo che la scontro di questo momento politico nel nostro paese È tra un blocco che vuole chiudere le frontiere Uscire dall'euro In un'Italia triste, paurosa eccetera È un altro blocco con contraddizioni E con una serie di fragilità Che però è più aperta rispetto al mondo E io ho l'ambizione Noi di Forza Europa Di rafforzare questa apertura Al mondo Perché è così nei commerci Perché Veda Nel mondo fragile di oggi 27 paeselli alla deriva Ma dove dobbiamo andare? Lei pensa che non abbia un grande futuro Ma mi dica una cosa Scusi Siccome Renzi ha detto questa frase Io preferisco la linea Minniti Ma se vincesse il centro-sinistra Di cui lei fa parte Lo rivorrebbe Minniti agli interni? No, io penso che Quello che io posso dire di me E impegnarmi di noi Di Forza Europa E che continueremo Dove potremo In Parlamento O dove potremo A portare avanti Questa linea di ragionevolezza E guardi Minniti non è ragionevole? Io penso che Penso semplicemente Che ha troppo calcato Sulla sola linea securitaria Quindi insomma Forse per lei Non lo rifarebbe Ministro dell'Interno? Io penso che Se Minniti aprisse All'integrazione Desse uno sguardo Alla proposta Aero straniero Penso che farebbe Un grande bene Per il nostro Per il nostro paese Ma perché veda Solo chi non ha mai Messo il piede in Africa O in alcune parti Dell'Africa Può dire Rimandiamoli tutti indietro Lei non ci crede Insomma a questa cosa? No Non è possibile Bonino Nel sistema che in qualche modo Lei ci rappresenta Qui stasera In buona sostanza Noi avremmo Nel Mediterraneo Avremmo dei taxi del mare Perché le ONG Che hanno fatto In qualche modo Loro mangrado Il trasporto Di esseri umani In barba Alle leggi Avremmo quindi No no Scusi Quali barba delle leggi? Certo Assolutamente Qui non è stato condannato Ancora nessuno Certo È stato accertato È stato No Non c'è niente di umanitario Bonino Non c'è niente di umanitario In arrivare In acque territoriali Libiche E arrivare ad appuntamenti Con le barche Di scafisti E fare in modo Che gli scafisti Riportino indietro le barche E tornare indietro E non collaborare Con la polizia Non vi potrà mica dire Che sono operazioni umanitarie quelle No Tant'è vero Che le fanno persino Le barche di Frontex Abbia pietà Ma non è solo E anche adesso 4.000 sbarchi In gennaio 200 morti Qualche migliaio Riportati Nell'inferno libico Se a lei Sembra una grande politica A me no E le ripeto Che le ONG Hanno sempre Lavorato Sotto La direzione Del centro Di Roma E' stato accertato Bonino Mi dispiace Bonino Mi dispiace E' stato accertato Che le ONG Agivano senza No Mi dispiace Ma le inchieste Dello scuola Della polizia Hanno accertato Hanno accertato Che le ONG Agivano senza Coordinarsi Col centro Di Roma Ma non è affatto E partivano Addirittura Senza ricevere Nessun tipo Di segnalazione Questo è stato Assolutamente Certo Ci sono dei video Ci sono dei documenti Bonino Eh no Lei me li tira fuori Questi documenti Perché per il momento E' aperta solo Un'inchiesta Del procuratore Di Trapani Che non è arrivato A nessuna conclusione Quindi le dice Che la magistratura Ha indagato per niente Cioè non c'è nulla No Ancora non ha finito Bonino Lei non pensa Che nella migliore Delle ipotesi Nella migliore Delle ipotesi I corridoi umanitari Li devono fare gli stati E non delle associazioni private Che hanno sedi fiscali In paesi offshore E di cui non si capisce Neanche Si c'è dietro E si finanzia E perché poi scaricano Persone sugli stati E i cittadini Ne pagano il costo sociale Non pensa che I corridoi umanitari Vanno fatti agli stati Certamente Tant'è che lo stato italiano L'ha fatto I corridoi umanitari Con Sant'Egidio Tanto per essere chiari L'ha fatto Lo stato italiano In accordo con Sant'Egidio Sia dei corridori umanitari Sia dei voli umanitari Di trasporto in Italia Ma lei li ripristinerebbe Questi voli umanitari Cioè andrebbe a prenderli Questi migranti No Sono andati Per carità No Ma dicono Li ripristinerebbe Ne farebbe altri In maniera Che possono arrivare Senza rischi Bonino però Questa è la faccia Di chi arriva in Italia Poi c'è la faccia Di chi è arrivato in Italia E qualche volta Non sempre naturalmente Ma qualche volta Poi accade anche Accadono fatti Come quelli di Macerata Questa morte si poteva evitare Innocence Che aveva già Commesso reato In passato Permesso di soggiorno scaduto Come mai Si trovava ancora in Italia E' la mamma di Pamela E' la mamma di Pamela A dirlo I nigeriani Sospettati di aver ucciso E fatto a pezzi Sua figlia Non dovevano essere qui Il primo fermato Osegal Era stato espulso E aveva diversi precedenti penali Ma era libero Libero di spacciare Come Lakia Uelim Il 27enne Sospettato di essere Il macellaio Che ha massacrato Pamela Viveva in un hotel A quattro stelle A spese dei cittadini Era sbarcato in Sicilia Con lo stato Di profugo di guerra Anche il terzo nigeriano Laki Desmond Il 22enne Con il vizio Per le scommesse Era arrivato in Italia Come richiedente asilo Un branco Che secondo gli inquirenti Avrebbe ucciso barbaramente La diciottenne Restano ancora molti I punti da chiarire Intanto emergono Nuovi particolari Un colpo in testa E due coltellate al fegato Così sarebbe morta Pamela Lo scorso 31 gennaio Forse si tratta Di un macabro rito tribale In ogni caso Un orrore senza fine Che poteva essere evitato Come ricorda oggi su internet Anche la leader Di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni Gli assassini di Pamela Che non dovevano sbarcare in Italia Che non dovevano essere accolti Che non dovevano essere mantenuti Come richiedenti asilo Bonino Non dovevano essere qui Alla fine Lo Stato è responsabile Di aver aperto le porte Di queste persone Guardi Io ho per Pamela La sua famiglia La stessa pietà E lo stesso dolore Che ho per Jessica Messica Altrettanto ammazzata Altrettanto adolescente Da un italianissimo ferroviere Perché il femminicidio Non ha colore Certamente Ma non pensa Che il fatto Che fosse assistito Dallo Stato Che lo Stato Lo avesse accolto Che pagasse Il conto dell'albergo Poi alla fine Insomma Significhi qualcosa Certamente Però questa xenofobia Non è È xenofobia Dire che vivevano albergo Aspettare lo Stato No Guardi Loro vorrebbero vivere In modo diverso E trovare un lavoro E integrarsi Il problema Torniamo al problema Dello Sprar Scusi Questo sistema Che funzionerebbe Perfettamente Se solo gli altri comuni Aderissero E non avremmo bisogno Di nessun albergo Però Quello che voglio dire È che Se fosse stato Un nero Che sparava All'impazzata Sul bianchi E sui italiani Si sarebbero precipitate Tutte le istituzioni Per dire Questo non si fa Siccome invece Era uno Che sparava I nero C'è andato Il ministro della giustizia C'è andato Minniti Insomma Non è proprio Che non ci sia andato Nessuno Ci mancherebbe pure No ma mi permetta Lei parlava dello Sprar Diceva Il 2 per 1000 Ma il 2 per 1000 Significano 120 mila persone Beh quelle sa Sono quelle In un anno Abbiamo esaurito L'accoglienza E gli altri Scusi Ricomincio In Italia Già oggi Come lei dice Ci sono Circa 500 mila Irregolari Che per ragioni Che ho appena Spiegato Non si possono Rimandare Tutti indietro Quindi Quello Che è difficile Ma che dobbiamo Tentare di fare Per la sicurezza Di tutti noi E tentare Di integrarli Senza Scusa Ma possiamo Accoglierne altri Oltre a questi 500 mila Ne possono arrivare Altri Altri 120 mila Scusi Un'associazione Così seria Come Confindustria Moressa Di fronte al declino Demografico Del nostro paese E non sono io A dirlo Se dice Che per Tenere l'equilibrio Tra chi lavora E chi è già in pensione Noi stiamo diventando Un paese Estremamente vecchio Avremmo bisogno Di 150 mila Nuovi Quindi ogni anno 150 mila Oltre i 500 mila Voglio finire Guardi che la xenofobia Non è Come dire Provocata dall'immigrazione E' come dire Che l'antisemitismo Fosse dovuto Al fatto che esistono Gli ebrei Oppure dire Che gli stupratori Esistono Perché le ragazze In minigonna Se la stanno andando A cercare Quindi stiamo attenti A questi fenomeni Perché l'antisemitismo Non nasce Perché esistono Gli ebrei Ma per Questioni diverse Gli ebrei esistono Per fortuna Ma non per questo Bisogna essere Antiserito Mi sembra un parallelo Un po' Prego Io volevo sapere Secondo lei Che cosa ha sbagliato Minniti Nella gestione Dei rapporti Con la Libia Negli accordi Che ha preso Con le varie Fazioni libiche Quanto era verosimile Cercare parlando Con loro sul territorio Di bloccare Realmente i flussi migratori E poi anche Lei non era d'accordo Sul fatto che Il PD non sia venuto Alla manifestazione Non sia andata Alla manifestazione Di Macerata Su questo Lei ha preso Una posizione netta È entrata in conflitto Col Partito Democratico Penso due cose Che sulla Libia Abbiamo fatto un accordo Con un governo Serrage Che di tutta evidenza E lo sapevamo da prima Non controlla il territorio E che quindi Ha dovuto Subappaltare Il controllo Del territorio Alle milizie Sostanzialmente Alle bande E alle bande Che si sono poi Peraltro Fatte le guerre Tant'è vero Che oggi Da Sabrata Dopo uno scontro Di dieci giorni Tra le varie bande Non parte quasi più nessuno E hanno trovato Un'altra strada Adesso escono Da Garagulli Arrivano da un'altra parte Sì E quindi Perché La mobilità globale Per povertà Come noi italiani Sappiamo perfettamente È come il vento Non lo si può fermare Lo si può governare Con difficoltà E abbiamo fatto Quindi bisogna accettare Insomma Questo Ascolti Non mi faccia dire Io ho detto Che va governato Governata Ma insomma E chiunque Lei ha detto 150 mila Sono attesi E quindi Un po' 120 mila Li possiamo sopportare E che cosa dobbiamo fare Certo non li possiamo Lasciare nell'inferno Delle carceri libiche Per un semplice Problema di umanità Che lei ha Come me E se le vedesse Le posso chiedere Una cosa Anche per cambiare argomento Che insomma Questo Il tema Della legittima difesa Perché poi c'è stato Anche qualcos'altro C'è stato C'è stata Una sparatoria A Napoli Un gioiegliere Si è visto Rapinato Ma lei È d'accordo Sulla legittima difesa Sa che Il PD aveva presentato Una legge Per in teoria Aumentare Poi non se ne è fatto niente No Io penso che Dobbiamo evitare La strada Che ognuno Si fa giustizia Si fa giustizia Da sé La legittima difesa È già prevista Dalla nostra Legislazione C'era un'altra Proposta aggiuntiva Che non è andata Da nessuna parte Ma io credo Che Effettivamente Evitando Che ognuno Si fa giustizia Da sé La legittima difesa È già prevista Nella nostra Legislazione Non la cambierebbe Quell'iniziativa Che era partita Dal PD Per rendere possibile Reagire In casa propria Almeno di notte No, no, no Si può benissimo Cambiare Le leggi Non sono Il decalogo Scritto Nella pietra Ci possiamo Anche riflettere Senza però Entrare Diciamo Sulla scivolone Che ognuno Si fa giustizia Da sé Ecco Ma Salvini Che dice Che la difesa In casa propria È sempre legittima Anche se Magari Cioè Uno Si sente Così minacciato Oppure Va valutato Caso per caso Lei non la condivide? No No Perché Mi pare Che apra Una strada Di tipo americano Diciamo Diciamo così In cui ognuno Pensa Che può Prendere una pistola E può sparare Le ripeto La legittima difesa È già prevista Nella nostra Legislazione Si può Raffinare Si può Cambiare Ma in limiti Molto precisi Anche di persone Indagate Che poi Sono state giudicate Un eccesso Di legittima difesa La loro È stata giudicata La loro relazione Quindi in questo caso Lei non interverrebbe Comunque sulla legge Io non faccio Il magistrato Non fai il magistrato Ma allora Tra poco invece Parleremo Di Questioni politiche Soprattutto Di una questione Che tiene banco In queste ore I famosi scontrini Ma subito dopo I soldi Finiscono in tasca Cioè Loro dicono Di essere I Robin Hood Invece Sono lo sceriffo Di Nottingham Secondo L'ex 5 stelle Sarebbero Ben 11 Bonifici pubblicati Che non sarebbero Mai arrivati Al fondo Per il microcredito Per un totale Di 21.129 euro Bonino Sa che ha fatto Un po' discutere Lo strano connubio Con Tabacci Nessuno si aspettava Che una radicale Una storia Come la sua Poi Si unisse A un Ex-democristiano Con tutto il rispetto Per la storia Di tutti quanti Sento obbligata No Guardi che Sono molti temi La nostra Di Marco Pannella Soprattutto Vicinanza E attenzione La pensate uguale Scusi? La pensate uguale No Ripeto L'attenzione Al mondo cattolico Di Pannella E dei radicali Non è nuova Lei pensi Alla campagna Contro lo sterminio Per fame E l'incontro Pannella Voitila Per esempio La fermo un attimo Perché voglio farle vedere Un contributo Poi ne parliamo Emma Bonino Ha conquistato Il cuore degli italiani Ma basterà Farle prendere Abbastanza voti Se lo chiede Anche il New York Times E se lo chiedono In tanti Amatemi di meno Ma votatemi E votateci di più La Bonino Ammirata per la sua Lunga carriera politica E' stata anche proposta Come Presidente Della Repubblica Lei diventata popolare Per le sue battaglie Contro le ingiustizie Per i diritti civili Tra proteste E scioperi della fame Io penso Che siamo tanti Che saremo anche di più Siamo comunque Determinati Determinati Per volere un paese Più maturo Un paese Meno proibizionista La Bonino Ammirata anche Per la sua battaglia Contro la malattia Ho detto dall'inizio E continuo a dire Io non sono il mio tumore Sono molto di più Nei recenti sondaggi Ha superato il 40% Seconda solo A Paolo Gentiloni Eppure La domanda Resta la stessa Riuscirà a ottenere i voti Per arrivare in Parlamento? Alcuni Sperano di no Tra questi Forse Anche Matteo Renzi Che pur essendo suo alleato Sa che il successo Della Bonino Potrebbe far perdere Seggia il suo PD Intanto Lei lo ripete Amatemi di meno Ma votatemi E votateci di più Bonino Ma davvero Renzi Spera che lei Non superi La famosa soglia Perché così Si prende dei voti? Io spero proprio Che non sia vero Perché E' un po' bizzarro Sarebbe un po' bizzarro Rammaricarsi Se Uno degli alleati Come dire Ha Una presenza Rilevante O comunque Discutibile Per carità Però Perché il meccanismo Della legge elettorale Lei lo sa Cioè a volte uno vota Un partito Ma non ce l'ha Quel partito Non ce l'ha Questa coalizione Ha un che di assurdo Un po' Non mi parlate Adolto Perché io non sento No Dicevo Uno vota un partito Poi questi voti Finiscono Invece al partito Maggiore Non è che sta tirando La volata A Renzi Questo veramente Credo sia Il frutto Di Questa Incredibile Legge Del Rosatellum Che per essere Discriminatoria Tra le altre cose Porteremo davanti Alle giurisdizioni Italiane E internazionali Ma questo è quello Che hanno combinato In questo accordo Affrettato Frettoloso Confuso Per cui è venuta fuori Una legge Che Io non sono L'ultima arrivata Ma ci ho messo Circa tre giorni A capire Cosa diavolo Come diavolo I figuri italiani Quanto ci metteranno Lei è esperta Voglio dire Di questo Tant'è vero Tant'è vero Che la commissione di Venezia Sul buon processo elettorale Raccomanda sempre Che le leggi elettorali Se si cambino Si cambino Un anno Prima del voto Per dare il tempo Ai cittadini Di impararla E alle forze politiche Anche quelle Fuori dal Parlamento Ma cambieranno poi Di nuovo questa legge Il prossimo Parlamento Scusi La cambierà di nuovo Questa legge Il prossimo Parlamento Non ho idea Perché dipenderà Dal voto degli elettori E forse anche Dal pronunciamento Della consulta Perché già C'è qualche ricorso Lei ce lo stava annunciando No no È sicuro Guardi Io sono per l'uninominale All'inglese Perci un po' Ed eravamo arrivati Dopo referendum Vinti Eh Alla L'ipotesi Di un doppio turno Alla francese Dopo vent'anni Siamo tornati indietro Gentili Bonino Lei si trova però In un sacco di situazioni Contraddittorie Come dire Si trova Da un lato Abbiamo detto Tabacci E quindi una storia Molto diversa dalla sua Dall'altro Renzi Che ostenta Tutta la Con grande tronfiaggine Di essere riuscita A mettere insieme Lei e Casini All'interno Della stessa coalizione In una coalizione Che comunque È molto sui generis Non siete d'accordo Più o meno Su nulla Allora è vero Che la legge Come si governerà Come si farà a governare È vero Che la legge è fatta male Ma non siete d'accordo Su niente Veramente non è d'accordo Quasi nessuno Su niente Niente a destra Perché la legge È fatta così E quindi E quindi Ognuno gioca Specialmente Non avendola fatta io Con le regole Che vengono imposte Ora Io ritengo E l'ho detto prima Che però Si scontrano Due blocchi Molto chiari Anche sui temi europei Uno che è quello Della chiusura Dell'Italia sola Dell'Italia che esce Dall'euro a giorni alterni Dell'Italia che pensa Che l'Europa è stato Tutto un disastro Eccetera E l'altro gruppo Che pure con fasi alterne E molte resistenze Con contraddizioni Che vuole più Europa Pensa però Che bisogna rimanere in Europa E io penso Che bisogna migliorarla Quest'Europa Ma intanto Difenderla E amarla Per quello che ha prodotto E per quello che è Bonino Le faccio vedere Una cosa però Che è successa oggi Perché prima parlavamo Di fascismo E così via Però poi Succede qualcos'altro E sembra A parti rovesciate Forse il fascismo Non c'è solo da una parte Guardiamo Oh bella ciao Bella ciao Bella ciao Se io muoio Da quanti sarò Dubita Viceperdita Hai vedesti? Eh Visto come sono moderni Gente moderna Gente che sa dire molte cose Gente democratica Gente che sa parlare Dei politica Dei problemi Dei cittadini Allora io vorrei Voglio sapere Che io sono questo E loro sono quelli Oh bella ciao Oh bella ciao Oh bella ciao Però male Che ci abbiamo questi E si pensa di loro Ma che facciamo La mattina La sera Ecco qui Eravamo a Livorno Avete visto Giorgia Meloni Di cui è stato impedito Praticamente Di parlare C'è stata Era arrivata Per una iniziativa elettorale Siamo tornati a fascismo Antifascismo Manifestazioni per impedire A qualcuno di parlare? Io trovo tutto questo Inaccettabile Da una parte E dall'altra Trovo che non è solamente Un dato Di maleducazione Non è questo E di non rispetto Reciproco E penso che se andiamo Avanti così Finiremo davvero Cadendo da tutte le scale Possibili Dobbiamo ristabilire Una regola semplice Secondo me In modo Non violento Tutti hanno il diritto Di esprimersi E ho cercato oggi Prima di venire qui Proprio Meloni Con cui condivido Molto poco Perché penso Che questo tipo Di aggressione E di inciviltà Non faccia bene Al nostro paese Da qualunque parte Venga Li abbiamo visto Anche nelle manifestazioni Dopo i fatti Di macerata Abbiamo visto Un carabiniere Che è stato aggredito Si si ma Se lo vuole Gli ne racconto Ligna le foibe Proviamo a pensare Il carabiniere Avesse reagito Avesse steso Uno di questi assalitori Saremmo qui Avrebbe generato Sicuramente Un nuovo eroe Immacolato Sul moderno Carlo Giuliani E questo è sicuro Bonino Io la rispetto E con rispetto Le dico Che lei non può Mettere sullo stesso piano Pamela e Jessica Perché nel caso Di Jessica La ragazza di Milano Noi abbiamo Comunque un responsabile Con un'identità Con un indirizzo Con un numero civico Nel caso di Pamela Noi abbiamo Alias Noi abbiamo Fantasmi Noi abbiamo Persone Che non dovrebbero Stare in Italia Non dovevano stare in Italia Che non avevano Titolo E come Igor Il Russo Bonino Igor Il Russo È una persona Che era stata espulsa Che non doveva stare in Italia E le dico E chiudo Bonino Lei sta qui A parlare di quanti Ne devono arrivare Come Il problema è che con 183 mila Nel sistema di accoglienza L'Italia è andato in tilt Perché significa Non aver rispetto Degli italiani Ma non è vero Ma non è vero L'Italia non è andata in tilt Con 6 milioni di integrati Di immigrati integrati Non è andata in tilt Anzi è cresciuta con quelli È cresciuta anche economicamente Quindi se noi facessimo una politica rigorosa Rigorosa Di integrazione Diminuiremmo anche questo fenomeno Di insicurezza Che viene alimentata da veri e propri imprenditori della paura Quindi così come si fomentavano Chi sono questi imprenditori della paura? Ma scusi L'ultimo di oggi Un signore nero in treno Gli viene fatto notare Che sta al posto sbagliato Ma aveva tutti Il biglietto tutto a posto Parte una fake news A centinaia di migliaia di persone Ci rubano il posto E non pagano il biglietto del treno Non era vero Eppure questo ha fatto il giro Di tutti i social Se pensi che ci sia dietro un'organizzazione? Ma secondo me quanta di questa colpa è di Salvini? Bonino Quanto dipende dai discorsi che fa la Lega E che fa Salvini Questo clima che si è creato nel paese? Ma non è solo Salvini Fosse solo Salvini Dopo Macerata Vi ripeto Salvini lunedì Ha avuto sette interviste Cioè ha parlato solo lui In tutti i più grandi giornali e telegiornali italiani Quindi non è solo Salvini Io credo e vi ripeto Che se non stiamo attenti ai gesti che stanno venendo fuori Magari piccoli Anna Arendt ci ha ben raccontato che cos'è la banalità del male E se vogliamo difendere la nostra coesistenza Il nostro modo di stare insieme In legalità E doveri e diritti Dobbiamo stare attenti a questi segnali Ed essere uniti nel respingere Da dovunque vengano Da sinistra O da destra O da destra Bonino le ho annunciato un servizio Perché si discute tanto dei scontrini E siamo tornati lì Alla fine Di rimborsi Di varie cose Lo vediamo E poi ne parliamo Parliamo dell'onorevole Andrea Cecconi Capogruppo alla Camera e capolista nelle Marche E del senatore Carlo Martelli Matematico Noto per andare anche in aula con i suoi inseparabili sandali E capolista in Piemonte Per chi ancora non lo sapesse I deputati e senatori pentastellati Sono impegnati a tenere per loro Solo metà di ciò che ricevono ogni mese Quanto è importante sto contributo di voi parlamentari? Da una mano ai cittadini italiani Per poter costruire qualcosa Vi costa un po' Vabbè, però non è questo il problema Era una promessa elettorale che abbiamo fatto Vostro attivista deluso Mi ha raccontato, no? Sì Che lei Di tutti i soldi Sì Che ha dichiarato di aver restituito Sarebbe trattenuti ben 21 No, guarda Non ho neanche calcolato quanti ne ho bioversati Cellino M'ha detto Ha versato 76.998 euro in meno rispetto a quelli dichiarati Eh, non lo so io Se me lo dice lei Ma che gli ha preso la senatura? Avete angosciato, che? Ma non è che lei Più che ispirarsi al principio Io restituisco Se ispirarsi al principio Io trattengo C'ho la vaca in passore Che il senatore Non ci farà mai sapere Se i bonifici Effettivamente sono partiti dal suo conto Esattanto Bonino Allora Ma finisce la diversità Cinque stelle diceva Noi restituiamo questi soldi Non tutti ovviamente Ma qualcuno forse avrebbe fatto il furbo Che ne pensi? Beh, così leggo e così mi pare abbiano messo loro stessi Quindi E mi ha fatto venire in mente Una frase che diceva un antico socialista Credo fosse Nenni Che ci metteva in guardia Era Nenni Che diceva Era Nenni? Sì Che ci metteva in guardia su Attenti ai puri O ai puristi Perché c'è sempre qualcuno più puro Che ti è pura E come i moralisti senza moralità Quindi credo che Come dire? Bonino Ma i cinque stelle le piacciono? Ritiene che sono una realtà A cui guardare interessante? Oppure li ritiene impreparati? Incompetenti? No, non do giudizi Sulle persone Sulle politiche Non ne condivido nessuna E trovo anche che una serie di promesse Stanno un po' cadendo La trasparenza per esempio Comunque A proposito di trasparenza Bonino Perché è così difficile Perdoni Perché è così difficile tagliare i famosi vitalizi Ridurre quelli che una volta erano considerati Voi faceste come radicali delle battaglie I privilegi della casta? Perché anche questo Parlamento Questa legislatura si è chiusa senza farlo? Credo perché Come in tutte le categorie Si fa per dire In Italia ne siamo Difendono Difendono se stesse A parte il fatto che Non c'è tempo Ma sui vitalizi vorrei dire poi un'altra cosa Vabbè la inviteremo ancora Visto che lei è stata con i gentili Da venire qui Non la sento E affrontare tutte le nostre domande Ma mi dica una sola cosa Se non ci fosse una maggioranza In Parlamento Si torna davvero a votare O si fa qualche No per favore E non ci starebbe? E perlomeno non con questa legge elettorale Perché avremmo gli stessi Ah cioè non tornereste a votare Perché c'è una legge elettorale? Ma no Facciamo la legge elettorale Dice Ah facciamo la legge elettorale Decente e decorosa Perché se torniamo a votare con questa Siamo puntata Ma lei lo sa che spesso la legge elettorale Poi è il pretesto per tirare avanti cinque anni? Non c'è nessun pretesto Però le dico una cosa Guardi che la fragilità politica del nostro paese È quella che ci rende anche più fragili in Europa In tutte le decisioni importanti che l'Europa deve prendere Non ci ascoltano perché siamo deboli Non so se ha notato Ma si sta creando un blocco economico Franco tedesco di enorme rilevanza Da cui noi stiamo rischiando di rimanere fuori Io credo che questo non sia bene Neanche per lo sviluppo economico del nostro paese Anzi sarebbe una vera disgrazia Bonino torneremo a parlarne Noi ci dobbiamo fermare qui Grazie Emma Bonino di Forza Europa Grazie a tutti quanti Ci vediamo domani Sempre dalla vostra parte Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti